Ciao, oggi vi voglio parlare del report al proprietario, uno strumento molto utile sia in fase di acquisizione di nuovi immobili che di ribasso. Vediamo come si attiva. È sufficiente entrare nell'elenco degli immobili e cliccare sulla rotellina nera per poter aprire appunto il report del proprietario. Vediamo come si presenta. Abbiamo una prima fase di introduzione con i dati anagrafici del proprietario, il logo dell'agenzia e sotto subito tutti i portali su cui l'immobile è stato pubblicizzato con il numero di visite ricevuto finora. Ogni giorno il nostro sistema rileva in automatico quante visite ha avuto ogni immobile che avete pubblicato sui vari portali proprio per riportarlo poi sui report dei singoli proprietari. Nella seconda pagina invece vengono mostrati il a sinistra il grafico dei contatti ricevuti dove vediamo il totale in alto e la differenziazione portale per portale o cartello per le varie fonti pubblicitarie. A destra invece vediamo il totale dei contatti effettuati divisi in telefonate, email, sms e whatsapp. Vi ricordo che con la funzione sala ricerca ogni chiamata fatta viene agganciata automaticamente all'immobile. Poi abbiamo un grafico che ci indica quanti appuntamenti abbiamo fatto e con una torta vengono rappresentate le obiezioni più diffuse tra i clienti che hanno visto l'immobile. Infine termina la seconda pagina le eventuali foto della squadra delle persone che stanno lavorando per la vendita dell'immobile. Nella terza pagina c'è un grafico molto interessante e l'indice di interesse di questo immobile nel tempo. A sinistra abbiamo la data di quando l'abbiamo acquisito 7 gennaio ed a destra la data odierna 11 marzo. La linea rossa traccia il tempo in cui mediamente la nostra agenzia riesce a vendere immobili simili a questo. Nell'esempio sono due mesi viene anche indicato analiticamente poi sotto al report. Per cui riusciamo a capire che per questo immobile siamo di una settimana oltre il limite in cui normalmente avremmo già venduto un immobile simile a questo. L'indice viene calcolato automaticamente da un algoritmo che considera gli appuntamenti effettuati, le chiamate ricevute, le visite sui portali, le chiamate e le altre attività effettuate. Attraverso il setup è possibile dare un peso diverso a ciascuna di queste entità che vengono relazionati al tempo quindi man mano giorno dopo giorno all'attività effettuata e vengono appunto indicati in questo grafico con cui è molto semplice far capire al proprietario che l'interesse per l'immobile è molto forte nella prima fase in cui l'immobile viene messo in vendita e poi via via un pochino cala magari fino a quando non è arrivato il momento di ottenere un ribasso di prezzo. Il report si conclude con una formula di chiusura personalizzabile. È possibile poi stampare analiticamente nel dettaglio l'elenco di tutte le persone che hanno visto l'immobile con nome cognome numero di telefono chi è il funzionario che ha fatto la visita e l'esito e così anche l'elenco delle persone a cui l'immobile è stato proposto o in telefonata in ingresso o in telefonata in uscita.